Ciao a tutti amici e benvenuti alla Bianco Auto, oggi voglio presentare questa fantastica Golf 7 1.500 benzina TSI 130 cavalli del 2019 con solo 33.000 km, vettura ex dipendenti Volkswagen che arriva direttamente dalla Germania, nella versione IQ Drive, fari full led, sensori parcheggio avanti e dietro con park assist, ruote in lega da 16, nero e diamantate, vetri posteriori oscurati vettura in perfettissime condizioni, guardate che bello, Golf 1.500 TSI 130 cavalli, cambio a manuale 6 marce, nella versione IQ Drive, veramente bella, 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 gli interni sembrano nuovi, vediamo il posteriore sinistra, posteriore cofano posteriore, baule con dispositivo carico passante, parte anteriore destra e posteriore destra, bellissimo, vettura del 2019 quindi molto fresca, andiamo a vedere ora gli accessori interni, allora 31.000 km, 1.500 130 cavalli, TSI, cruise control attivo, Volkswagen lane assist, poi abbiamo il navigatore satellitare, il telefono bluetooth, retrocamera e sensori parcheggio, clima automatico bizona, sedili riscaldati, park assist, completa di tutto, volante multifunzione, 36 mesi di garanzia, tagliando fatto, toglie tutti i filtri prima della consegna, doppie chiavi, tappetini in gomma, uccidatura esterna e sanificazioni interni, la vettura, vi ricordo, con 36 mesi di garanzia, da quando voi l'acquistate, la trovate a motta di costigliore d'assi, da Bianco Auto, il telefono è numero 0141 96 92 14, l'e-mail è info-biancoauto.it, per chi vuole un 1.500 TSI di benzina, questa è la vettura che fa per voi, ciao a tutti, alla prossima!